Ciao a tutti ragazzoni miei, io sono Beppe X e oggi vi do il bentrovati sul mio canale Mi scuso per l'assenza ma non vi preoccupate che i video ripartiranno E inoltre vi volevo dire che ho aperto una nuova page su Instagram Quindi vi consiglio di seguirmi tutta di curiosità molto interessanti Inoltre vi consiglio di passare anche dal canale Telegram, link di entrambi in descrizione Oggi ragazzi come avete potuto leggere dal titolo e dalla miniatura parleremo di cambiamenti Vi lascerò un gameplay come sottofondo per distrarvi un po' Però vi ricordo di dare sempre tanta attenzione a quello che dirò Perché il video di oggi è importantissimo Ora bando alle ciance e cominciamo Partiamo con una buona notizia che fa sempre piacere a tutti D'oggi in poi dedicherò un impegno maggiore nell'editing nelle piccolezze Che saranno fondamentali per un upgrade dei miei video Perché quando portavo le top 5 che ancora sono i miei video più recenti Dovevo impiegare una gran parte del mio tempo in cui facevo i video, editare e tutto Nel creare i video con le immagini che poi voi vedevate Da oggi in poi i video che porterò saranno già creati da filmati Quindi io non dovrò creare filmati in più E in questo modo posso dedicarmi in maggior tempo alle piccolezze Quindi vedrete subito nei prossimi video che usciranno Un miglioramento della qualità e di tutto Inoltre ho creato già un nuovo layout per il canale Che poi vi farò vedere prossimamente Adesso però passiamo sul tema principale di questo video Ovvero il cambiamento Ho deciso di cambiare formato Ebbene si ragazzi Non vi preoccupate per tutti quelli che si erano iscritti per le top 5 Perché non verranno più con la stessa frequenza Infatti le porterò molto più raramente Però non vi preoccupate che non mancheranno mai Perché mi ci sono affezionato anch'io In cosa ho voluto cambiare Vorrò portare recensioni Non recensioni normali di giochi per computer Ma recensioni di giochi dell'App Store Voi potete essere un po' dubbiosi E forse lo sono anch'io Ma non vi preoccupate che piano piano Ci abitueremo un po' tutti Inoltre vi ringrazio perché stiamo crescendo tanto in questi giorni Quindi un grazie di cuore da parte mia E recensioni proprio come detto prima Dell'App Store Perché l'App Store su YouTube Non è molto presente I giochi ci sono Però nessuno valuta Ad esempio quanto pesa un gioco Oppure le recensioni che ci sono Poi valuteremo insieme le stelline Faremo un piccolo commentary E anche un piccolo pezzo dedicato proprio al gameplay Quindi saranno video divisi in qualche parte In 4 o 3 parti Poi deciderò un po' più avanti Quindi ragazzi Rimanete comunque sintonizzati sul mio canale Perché ci sarà questo grande cambiamento Mi raccomando abbiate fiducia in me Perché non vi deluderò O almeno proverò a non farlo Ragazzi comunque Non vi preoccupate che Ci sto già lavorando da un bel po' di tempo Sulle recensioni Infatti non ho fatto video Per scusate il gioco di parole Per un mese Ma perché ho proprio lavorato su questo E volevo portarvi già dal primo video Di questo cambiamento Un notevole miglioramento Quindi ragazzi Ci tenevo moltissimo Dirvi questo Questo che vi ho detto Spero che voi ci siete sempre Mi raccomando Se vi piace l'idea E se volete supportarmi Lasciate un mi piace Che non vi costa nulla Inoltre commentate Condividete Iscrivetevi al canale Per nuovi video e nuove news Soprattutto adesso che Ci sarà questo drastico cambiamento E mi raccomando Non vi preoccupate Che arriveranno anche Le top 5 Quindi ragazzi Ultima cosa di questo video Vi ricordo Di seguirmi su Instagram Perché per me è molto importante E dedico molto tempo Su quelle curiosità E inoltre sul canale Telegram Dove potete rimanere Aggiornati Sulle mie cose Ciao ragazzi Yeah